Buongiorno, aspettate che sto cercando di mettere anche, come si dice, in collegamento Instagram. Vediamo subito quali sono i... oggi piove. Oggi purtroppo a Milano piove, per fortuna che si va a Roma e si vede se il tempo è un po' migliore. Ma temo che la mia meteoropatia, come si dice, non verrà sollevata da Roma. Cosa succede oggi sui giornali? Beh, il grande tema è ancora quello del salva stati, però c'è Gentiloni che ci rassicura tutti quanti. Dice, è un ombrello protettivo in caso di crisi bancarie non gestibili con strumenti attuali. Toc toc! Allora abbiamo una novità qua. Questo è un ombrello protettivo in caso di crisi bancarie, bancarie. Quindi non è soltanto un salva stati, è anche un salva banche, nel senso legittimo del termine, per cui ci sono delle risorse europee che vengono messe a fattor comune per poter salvare alcune banche che si potrebbero, che si possono, come possiamo dire, sentire sull'orlo del fallimento. Quali sono le banche in Europa in questo momento che si possono sentire sull'orlo del fallimento? Punto di domanda! Sono quelle tedesche, in particolare Deutsche Bank. Allora, vedete, io ho scritto un pezzo oggi sul giornale, sapete che non mi cito mai, perché in realtà poi dopo questo pezzo lo troverete sul sito nicolaporro.it, più tardi con qualche, buongiorno Barbara, ciao Patrizia, con qualche rimaneggiamento. Ma il punto fondamentale di questo salva stati, che non è un complotto, sia chiaro, perché questa roba qui l'aveva conosciuta benissimo anche il precedente governo e la stava trattando il ministro Conte e il ministro Tria del passato governo, quindi tocca informarsi se si sta al governo di quello che succede. Ma il punto fondamentale di questo salva stati è che questo salva stati viene rimodificato e rischia che nel futuro possa servire non già agli stati del nord, che sono molto fiscalmente in condizioni migliori rispetto alle nostre, ma alle banche del nord. Vi segnalo che una delle banche degli scandali finanziari più importanti d'Europa riguardano una banca della penisola scandinava che riciclava, non è parte dell'Unione Europea, che riciclava quattrini russi per miliardi di euro e di rubli. Uno di questi banchieri si è suicidato. Vi segnalo che c'è una banca tedesca regionale che si chiama Nord LB che ha prestato 4 miliardi di euro ai cantieri navali tedeschi e sono saltati 2 miliardi di euro, scusatemi, e ha fatto ricapitalizzazione con le regioni tedesche senza che nessuno ne abbia qualcosa a dire. Oggi Patuelli di queste cose, se fosse toc toc, come dice Gentiloni, come dice Gentiloni, una roba, un ombrello protettivo, beh, insomma, il presidente dell'ABI non si direbbe così preoccupato del fatto che mentre ci stanno facendo un ombrello protettivo, dall'altra parte dice in un'intervista, oggi il presidente dell'ABI, attenzione perché vogliono ponderare il peso dei titoli di Stato all'interno dei bilanci delle banche, il che è molto semplice, cioè vi vogliono mettere un po' come hanno fatto sugli alimenti, perché le cose sono semplici. Avete presente gli alimenti italiani in cui c'è quel semaforo rosso, verde e giallo per cui se il grana padano sembra come, come posso dirvi, il Brad Wuster nel far male? Bene, se mettono il semaforo rosso al titolo di Stato italiano in giro per tutta la finanza europea, questo vuol dire che il titolo di Stato italiano non se lo becca nessuno e quindi piazzarlo sui mercati sarà sempre più difficile. Avete capito perché Patuelli è preoccupato? Perché questo gigantesco meccanismo salva stati che salverà, ha salvato la Grecia, ha salvato il Portogallo, ha salvato Cipro, ha salvato in una certa misura la Spagna, insomma l'Irlanda sicuramente rischia ora di essere utilizzato per salvare alcune banche, ipotesi dell'in realtà salvare alcune banche tedesche. Di Maio fermati! Appello finale di Zingaretti è quello che dice Repubblica, anche se tardi il Movimento 5 Stelle, ovviamente perché ha paura di essere scavalcato dall'opposizione leghista, cerca di far sì che questo salva stati sia rivisto, sia rivisto, anche se, voglio dire, io su questo sono molto laico, io non so, qualcuno oggi lo scrive, che non è detto che rivedere questo salva stati poi migliori la condizione, perché Conte in realtà ha già ottenuto abbastanza col passato governo da questo salva stati, e cioè la cosa che ha sventato è che olandesi e tedeschi volevano un automatismo, per cui se tu prendi dei soldi sei fottuto sostanzialmente, e questo sarebbe valso per l'Italia se mai avesse cresciuto soldi, quindi la questione, Fabbrini, Max Weber, quello che ha cacciato Gervasoni oggi sul Sole 24 Ore, non si rende conto che stiamo parlando del salva stati e dice questa grande Europa con i franco tedeschi che vogliono fare la conferenza sul futuro dell'Europa, a Fabbrini, a Max Weber della Luiz, guarda che stiamo a discutere il salva stati, qua la grande conferenza sul futuro dell'Europa interessa tre e quattro pipparoli in giro, ma stiamo sulla notizia, è solo le 24 Ore vabbè di Patuelli vi ho parlato, della Banca Italia invece la stampa dice una seguente cosa difende il meccanismo europeo, diciamo salva stati, non minaccia il debito, quindi è una cosa diversa non è che lo difende, non minaccia il debito perché non è passata l'ipotesi di Olanda e Germania che la stessa banca centrale italiana aveva detto a combisco che sarebbe stata una minchiata mostruosa. Questi sono i temi di giornata, lunedì poi ci sarà, oltre a Quarta Repubblica, l'appuntamento degli appuntamenti, ci sarà ovviamente Conte che al Parlamento parlerà di questa roba. Scalfari oggi parla come tutte le domeniche e quando parla Scalfari io mi metto le mani nei capelli perché penso ai poveri colleghi di Repubblica che lo devono passare, lo devono leggere, insomma non come quelli che fanno a Repubblica si dimenticano con Giavazzi di passare degli errori dimenticandosi che prima della Lamorgese c'erano altri ministri degli interni, quel clamorosa gaff delle settimane scorse, no, in questo caso secondo me quelli di Repubblica professionalmente passano Scalfari che oggi ci spiega che cosa ci spiega? Che noi siamo degli animali ma che l'animale più di tutti è il populismo perché è un animale senza luogotenenti, fantastica la teoria di Scalfari di oggi, per gli appassionati vi suggerisco di leggerlo. P.G. Battista di Fender Black Friday non attacca i black come cacchio si chiamano ma dice ragazzi ancora costa fatto del consumismo, la prima cosa che fecero gli comunisti, i paesi comunisti quando si ruppe, si distrusse il comunismo e il muro e precipitarsi nei negozi occidentali, basterebbe questo per capire che cosa è il consumismo. Terrorismo islamico, beh la storia del terrorista islamico su London Bridge è una storia straordinaria perché questo signore era stato condannato a 16 anni per terrorismo e dopo 7 anni esce, quindi viene da dire che non solo in Italia la certezza delle pene di cui ci rendiamo e riempiamo la bocca è così certa, un permesso premio per un terrorista con il braccialetto che poi va su London Bridge e uccide e tra l'altro sapete chi è che lo placca? È la cosa più bella del mondo, un altro assassino! E l'altro assassino che lo placca, c'è scritto su tutti i giornali, era condannato all'ergastolo! Cioè su quel London Bridge chi ci stava? Mezza prigione, ci doveva stare anche Scott Underdard, cioè ci stava un terrorista che doveva scontare 16 anni e un assassino che placca il terrorista. Tra l'altro l'assassino che placca il terrorista aveva ucciso, sgozzandola, una signora, una disabile in carrozzina! Cioè mi rendete conto? Questa è una storia che tu pensi che sia... Non so, come si chiamava quell'amico mio, quello che mi piaceva a me, che scriveva dei libri stupendi, vabbè, quell'inglese che scriveva delle cose, come dicono oggi, distopiche, vabbè, mi verrà in mente. Ma è una cosa straordinaria, il terrorista che viene ammazzato da un altro terrorista, da un altro assassino, ma è stupendo! Il Vaticano, la metro e le scuole sarebbero sotto massima allerta, dice il giornale, per attentati possibili in Italia. Questa è la tesi del giornale, ma c'è un po' su tutti i giornali, il giornale ci apre. In realtà, Michalessin sul giornale scrive una cosa semplicissima. Qua, l'unica cosa che non è un'emergenza per la Commissione europea, l'ambiente, l'immigrazione, tutto, non la sicurezza, ce la siamo dimenticati. Il, come si chiama, il Fatto Quotidiano continua con il tariffario di Renzi. Vabbè, ho capito, se fa una conferenza si fa pagare. Io non riesco a capire quale sia il tema. A me se mi vogliono chiamare per una conferenza, me faccio pagare. Il problema è che ci sia una fattura. E le fatture ci sono. Tant'è che non è che ci vuole il tariffario di Renzi, perché loro fingono di chiamare come se fossero una società che chiamano Renzi. Vuoi venire a un convegno e Renzi, gli agenti Renzi dicono sì, se ci paghi, ovviamente. E questo non mi sembra un grande scandalo. Mi sembra uno scandalo che ci fanno l'apertura di un giornale quando su un altro giornale i procuratori vanno a indagare sul fatto che Renzi sia stato pagato appunto 30.000 euro per ogni sua comparsata e abbia fatturato questi 30.000 euro. Cioè nelle carte della procura non c'era necessità di fare la grande inchiesta del Fatto Quotidiano, che ha un po' perso la brocca. Perché oggi, come si chiama Travaglio, che è un fissato sul fatto che dal 1 gennaio parta questa legge assurda sulla prescrizione, che tanto ama Buonafede, se la prende col capo della NM, Poniz, perché non vuole, vuole un rinvio su questa assurda e liberticida legge. E dice sei l'unico, tutti i magistrati la vogliono. Anche lì bastava guardare un altro magistrato, brutti liberati, il capo della procura di Milano, che può star simpatico o non simpatico, ma nella sua intervista parla malissimo delle leggi di Berlusconi e dice ragazzi, buona questa prescrizione, perché succede un casino con questa prescrizione, perché rischiamo che non si finisca mai un processo. Gli lo dice brutti liberati, non pacini battaglia, ma quello là, no, il suo cervello ha una specie di grande, grande materia. Come possiamo dire, nel suo cervello escono dalle orecchie le pandette, il codice di procedura penale. Quando lo vedi c'è un codice di procedura penale che c'ha da tutte le parti. Eccolo qua il codice di procedura penale! Te paga col codice di procedura penale, prima o poi l'arresteranno anche lui. Quindi manette agli evasori, il sole 24 ore ci spaventa. E a me spaventa, perché dice, non per colpa del sole, ma per quello che questi pazzi faranno, e cioè le manette agli evasori, cioè l'estensione della legge 231 anche ad altri quattro delitti. Il che vuol dire che le imprese saranno sempre più fottute. Quando fra due o tre anni avremo l'Italia che sarà fatta solo da pubblica amministrazione, non ci sarà più un imprenditore, poi dopo staremo qui a piangere. Nel frattempo il reddito di cittadinanza, oggi il messaggero ci lo dice, che sarebbe dovuto cambiare il mercato di lavoro in Italia, ci costa 7 miliardi, mille posti di lavoro creati. Ma vi rendete conto? Lille posti di lavoro creati. Prodi giustamente oggi ci racconta sul messaggero una cosa che bisognerebbe far vedere a gentiloni e a tutti quelli che dicono che l'Italia è in Europa, eccetera. Dice, Francia e Olanda ci stanno facendo un mazzo così, perché sperano di attirare le imprese da Londra, dopo la Brexit, fornendo legislazioni e fiscalità di vantaggio. E noi che facciamo? Aggiungo io, mentre Prodi ci fa capire come stiamo morendo, noi gli facciamo un mazzo così, 2-3-1, maggior fisco, web tax, plastic tax, insomma gli facciamo un mazzo così per attirare le aziende dall'estero. Cioè se mettiamo insieme i due neuroni, cosa che al fatto non sono in grado di fare, ma probabilmente voi che ascoltate la zuppa forse ci potete arrivare, ma ci arrivano tutti, se noi rendiamo più difficile il sistema competitivo e abbiamo una tassa della Madonna in Italia, ma chi ci viene? Babbo Natale, giusto per portare qualche regalino di Serie B in questo paese. Letterina di Benetton a tutti i giornali, nessun Benetton ha mai gestito autostrade, di cui azionista al 30%. Quello che è successo in autostrade è gravissimo, è loro che ha sbagliato paghi. Non ci può essere questa campagna di odio che sta facendo Di Maio nei nostri confronti. Beh, insomma, ci hanno ragione, sì e no. Campagne di odio io non so se ci sia, però la cosa che io sono sicuro che c'è, sicuro che c'è, la campagna di odio, semmai ci pensassero a quello stronzo del loro fotografo, no? Oliviero Toscani, cioè loro hanno assunto, Oliviero Toscano, Carlo Luciano Benetton, che è quello che lancia campagne di odio nei confronti di tutti. Quindi prima di parlare di campagne di odio, guardati a casa che mostri di merda che hai costruito. Oliviero Toscani, un ubriacone che pontifica, e tu parli di campagne di odio degli altri. E' ovvio, io se parlo male dei giornali non penso che mi recensiscano il mio libro. Tu, se fai il fenomeno con il tuo Oliviero Toscani con cui vai a farti le sbevazzate insieme, perché ti lamenti delle campagne di odio? Sono i figli e il frutto di quello che tu hai costruito nel passato. Detto questo, dire che i suoi magistrati, che i suoi manager hanno creato un casino, compreso Castellucci, a me va benissimo, è vero, è giusto, la separazione tra proprietà e managerialità. Però possiamo dire una cosa? Ma che proprietari siete se non riuscite a trovare un manager decente? Che proprietari siete se non si è mai resi conto di quello che stava facendo il vostro... Almeno possiamo dirvi che siete dei proprietari inadeguati. Almeno questo. Poi io sono dell'idea che non si debba tagliare la concessione ai Benetton. Però adesso che piagnucolino, che dicono che c'è la campagna d'odio nei loro confronti, posto che io li ho sempre difesi, mi sembra un attimo too much. Grazie, grazie al messaggero Osvaldo De Paolini. Oggi il libro meno recensito del mondo, rischia di essere quasi recensito, perché il messaggero, oggi mi sembra pagina 16-18, con una bellissima intervista di De Paolini, che si vede che il libro l'ha letto, le tasse invisibili, mi gratifica insieme al suo direttore di mezza paginetta. Grazie a tutti quanti voi, vi do appuntamento al pezzo mio sul salva stati, sul sito nicolaporro.it e soprattutto Quarta Repubblica lunedì sera. Ciao!